camminava da quaranta giorni cercando lavoro dappertutto aveva lasciato il suo paese vi laverè nella manica perché là il lavoro mancava carpentiere 27 anni bravo uomo intraprendente per due mesi era rimasto a carico della famiglia lui il maggiore dei figli costretto a star con le braccia concerte in ozio il pane diventò scarso nella casa le sue due sorelle andavano a giornata ma guadagnavano poco e lui Jacques Randel il più robusto di tutti non faceva niente e mangiava il pane degli altri allora sarà informato il municipio e il segretario aveva risposto che nella Francia centrale si poteva trovare qualche occupazione munito di certificati era partito con sette franchi in tasca portando in spalla in un fazzoletto turchino appeso all'estremità del bastone un paio di calzoni e una camicia per giorni e per notti aveva camminato senza riposo lungo strade interminabili sotto il sole e sotto la pioggia senza arrivare mai a quel paese misterioso in cui gli operai trovano lavoro si era messo in testa che doveva lavorare solo il legno perché era carpentiere ma in tutti i cantieri dove si presentò e fu risposto che avevano licenziato uomini per mancanza di ordinazioni e allora lui trovandosi all'estremo delle risorse decise di far qualunque lavoro avesse trovato perciò fu via via sterratore mozzo di stalla segatore di pietre spaccò legna potò alberi scavò pozzi fece il calcinaio legò fascina pascolò le capre su una montagna tutto ciò per qualche soldo perché non riusciva ad avere di tanto in tanto che due o tre giorni di lavoro offrendosi a basso prezzo per tentare la valizia dei padroni e dei contadini ed ora da una settimana non trovava più nulla da fare non aveva più nulla e mangiava un po' di pane grazie alla carità delle donne che implorava sulla soglia degli usci mentre passava per via cadeva la sera sfinito le gambe spezzate lo stomaco vuoto l'anima sconvolta randè camminava fra l'erba sul ciglio della via ormai adoperava l'ultimo paio di scarpe l'altro da molto tempo non esisteva più era di sabato verso la fine dell'anno le nuvole grigie correvano nel cielo veloci e pesanti sotto la spinta del vento che similava fra gli alberi si sentiva che tra poco sarebbe piovuto la campagna era deserta in quel pomeriggio vigilia di domenica qua e là nei campi si levavano simili a funghi giallognoli mostruosi mucchi di paglia e la terra già seminata per l'anno successivo pareva nuda jacques aveva fame una fame bestiale una fame di quelle che spingono i lupi ad assalire gli uomini estenuato allungava le gambe per far meno passi e la testa pesante il sangue che non sava le tempie gli occhi rossi la bocca arida stringeva il bastone nella mano col vago desiderio di colpire con forza il primo passante che tornasse a casa a mangiare la minestra osservava i bordi del sentiero con l'immagine negli occhi delle patate rimaste sotto la terra rivoltata se ne avesse trovata qualcuna avrebbe raccolto della legna avrebbe fatto un focherello nel fosso della strada e cenato assai bene col tubero caldo e rotondo che avrebbe tenuto prima scottante nelle mani di acce ma la stagione era trascorsa e avrebbe dovuto come il giorno innanzi rodere una barbabietola cruda diventa da un solco dopo un paio di giorni allungando il passo sotto l'ossessione delle idee parlava ad alta voce fino ad allora impegnando tutto il suo spirito tutte le sue semplici facoltà non aveva per nulla pensato alla sua mansione professionale ma ecco che la fatica quella ricerca accanita di un lavoro introvabile i rifiuti le male risposte le notti passate sull'erba il digiuno il disprezzo che sentiva negli uomini per il vagabondo quella domanda posta agli ogni giorno perché non siete rimasto a casa vostra il dolore di non poter adoperare le sue valide braccia che sentiva piena di forza il ricordo dei genitori rimasti a casa e che non avevano nemmeno un soldo lo ricolmavano via via una collera lenta che aumentava sempre più ogni giorno ogni ora ogni minuto e che gli sfuggiva di bocca malgrado la sua volontà in brevi frasi di odio inzampando nei sassi che rotolavano sotto i suoi piedi scalzi lo funchiava miseria miseria massa di porci lasciar crepare di fame un uomo un falegname massa di porci nemmeno due soldi ecco piove massa di porci si indignava dell'ingiustizia del destino e se la prendeva con gli uomini con tutti gli uomini piuttosto che con la natura la grande madre cieca e parziale feroce e perfida a denti stretti ripeteva massa di porci e intanto rimirava la fumata sottile e grigia che usciva dai tetti a quell'ora di cena e senza riflettere all'altra ingiustizia umana questa che si chiama violenza e furto aveva desiderato di entrare in una di quelle case ad ammazzare chi vi abitava e di mettersi a tavola invece sua diceva non ho diritto di vivere ora mi lasciano crepare di fame e non chiedo chi di lavorare io massa di porci e la sofferenza del corpo la sofferenza dello stomaco e del cuore gli saliva alla testa come un'ebbrezza paurosa e gli faceva nascere nel cervello questa semplice idea ho diritto di vivere perché respiro perché l'aria è di tutti dunque non hanno il diritto di lasciarmi senza pane cadeva la pioggia fine, fitta e gelida si fermò e mormorò miseria ancora un mese di cammino prima di rimettere piede in casa di fatti tornava a casa ora poiché capiva che avrebbe trovato più facilmente lavoro nella sua città natale dove era conosciuto facendo non importa che cosa anziché per strada dove tutti sospettano poiché il bestiare suo non aveva fortuna sarebbe diventato manovale aiutante mandriano sterratore spaccapietre quant'anche avesse guadagnato venti soldi al giorno avrebbe avuto abbastanza di che sfamarsi si avvolse attorno al collo il suo ultimo fazzoletto perché l'acqua non gli scorresse per la schiena e sul petto ma di lì a poco sentì che essa gli traversava la tela sottile dei vestiti gettò attorno a sé uno sguardo d'angoscia di creatura sperduta che non sa più dove nascondere il corpo dove poggiare la testa che non ha più un rifugio nel mondo sopraggiungeva la notte e copriva i campi di ombre e gli scorse lontano in un prato una macchia scura sull'erba una mucca saltò il fosso della via e andò verso la bestia senza sapere che cosa avrebbe fatto quando fu vicino la mucca alzò verso di lui la grossa testa e Jacques pensò se avesse almeno un recipiente potrei bere un sorso di latte guardava la mucca la mucca guardava lui poi d'improvviso lui le diede una gran pedata dicendo su alzati la bestia si drizzò lentamente lasciando pendere sotto il ventre le pesanti mammelle allora l'uomo si colicò sul dorso fra le zampe dell'animale e beve a lungo assai a lungo premendo con le mani il capezzolo gonfio caldo che odorava di fieno beve finché in quella viva sorgente vi fu un po' di latte ma la pioggia gelida cadeva più fitta e tutta la pianura era nuda e non mostrava un rifugio aveva freddo e guardava un lume che brillava tra gli alberi alla finestra di una casa la mucca si era di nuovo sdraiata pesantemente lui le si sedette accanto grato d'esserne stato nutrito il soffio frequente possente della bestia che usciva dalle sue froge come due getti di vapore nell'aria della sera passava sul viso dell'operaio il quale si mise a dire non hai freddo lì dentro tu poi mise le mani sul ventre della mucca fra le zampe per trovarvi un po' di calore gli venne quindi l'idea di sdraiarsi e di passare la notte contro quel gran corpo tiepido cercò un posto per star bene e pose la fronte proprio contro la possente mammella che poco prima lo aveva abbeverato siccome era franto dalla stanchezza un tratto si addormentò ma più volte si svegliò con la schiena il ventre gelato a seconda che disponeva l'una o l'altra contro il fianco dell'animale allora per riscaldarsi e asciugare la parte del corpo che era rimasta all'aria si voltava e in breve vinto dal sonno si riaddormentava il canto di un gallo lo fece balzare in piedi l'alba stava per apparire non pioveva più il cielo era limpido la mucca si riposava il muso allungato sul suolo appoggiandosi sulle mani lui si abbassò per baciare quelle larghe narici di umida carne e disse addio mia bella ma un'altra volta sei una buona bestia addio poi si mise la scarpa e se ne andò per due ore camminò diritto seguendo sempre la medesima strada poi lo invase una stanchezza così grande che si cedette fra l'erba il giorno era sorto le campane della chiesa suonavano uomini in camiciotto turchino donne in cuffia bianca a piedi o cicarretti incominciavano a passare per via diretti ai vicini villaggi dove andavano a festeggiare la domenica in casa di parenti o amici apparve un grasso contadino che spingeva dinanzi a sé una ventina di pecore inquiete e belanti che un cane veloce teneva riunite randè si levò e salutò non avreste lavoro per un operaio che muore di fame disse l'altro rispose lanciando al vagabondo un sguardo cattivo non ho lavoro per la gente che incontro per strada il faragname tornò a sedersi sul ciglio del fosso aspettò a lungo mentre guardava sfilare i contadini cercando un viso buono un viso pietoso per ripetere la sua preghiera scelse un borghese in soprabito col ventre ornato da una catena d'oro da due mesi cercò lavoro disse non trovo nulla e non ho più un soldo in tasca il mezzo signore replicò avreste dovuto leggere l'avviso affisso all'ingresso del paese è proibito l'accattonaggio nel territorio del comune io sono il sindaco e se non andate via alla svelta vi faccio arrestare Randel che era preso dalla collera mormorò fatemi arrestare se volete è preferibile almeno non morrò di fame e tornò a sedersi sul ciglio del fosso un quarto d'ora dopo infatti due gendarmi comparvero sulla via camminavano lentamente gomito a gomito bene in vista brillanti sotto il sole con i loro cappelli d'inserato i loro cinturoni e i bottoni metallici come per spaventare i malfattori e metterli in fuga di lontano il falegname capì che venivano per lui ma non si mosse preso da una sorda volontà di sfidarli di essere preso da loro e più tardi di vendicarsi si avvicinavano senza mostrare d'averlo veduto incedendo col loro passo militare pesante e cadenzato come il passo dell'oca poi d'un tratto passando dinanzi a lui fecero finta di scoprirlo si fermarono e si misero a squadrarlo con occhio minaccioso il brigadiere si avanzò chiedendo che fate qui l'uomo rispose tranquillamente mi riposo di dove venite se dovessi dirvi tutti i paesi per dove sono passato ne avrei per più di un'ora dove andate a ville avrei dov'è questo posto sulla manica è il vostro paese è il mio paese perché ve ne siete allontanato per cercare lavoro il brigadiere si volse verso il gendarme e con la collera dell'uomo che si esaspera anche per lo stesso sospetto del raggiro commentò dice sempre così questa gente ma lo conosco il trucco io poi riprese avete documenti sì ne ho fateli vedere Randell prese dalla tasca i suoi documenti povere carte logore sporche che erano quasi ridotte a brandelli e le porse al gendarme l'altro li leggeva a stento poi constatando che erano in regola li rese con l'aria scontenta di un uomo che un altro più scaltro ha giocato dopo qualche minuto di riflessione gli chiese di nuovo avete denaro con voi? no niente niente nemmeno un soldo nemmeno un soldo di che vivete allora? di quel che mi danno? allora mendicate Randell rispose risoluto sì quando posso il gendarme allora dichiarò io vi sorprendo in flagrante diritto di vagabondaggio e di mendicità senza mezzi e senza professione per via e vi ingiungo di seguirmi il carpintiere si alzò fin dove vorrete disse lui e ponendosi tra i due militari ancora prima di ricevere l'ordine aggiunse su mettetemi in gattabuia avrò un tetto sul capo quando piove si avviarono al villaggio del quale si scorgevano gli embrici attraverso gli alberi spogli un quarto di lega lontano quando attraversarono il paese era l'ora della messa la piazza era piena di gente e due siepi si formarono per lasciar passare il malfattore seguito da una folla eccitata di ragazzi con cittadini e con cittadine guardavano quell'uomo arrestato fra i due gendarmi con l'odio acceso negli occhi e il desiderio di gettargli dei sassi di graffiarlo di schiacciarlo sotto i piedi si chiedevano se avesse rubato o ammazzato il macellaio un vecchio spy affermò è un disertore il tabaccaio credette di riconoscerlo per un uomo che gli aveva dato quella stessa mattina una moneta falsa di 50 centesimi e Kincagliere vide in lui l'assassino della vedova Amalè che la polizia cercava da sei mesi nella sala del consiglio municipale dove i suoi gendarmi lo fecero entrare Randel ritrovò il sindaco seduto dinanzi al tavolo delle deliberazioni con a fianco il maestro esclamò eccovi giovanotto vi avevo pur detto che vi avrei fatto impacchettare ebbene brigadiere di che si tratta il brigadiere rispose un vagabondo senza casa né paese signor sindaco senza mezzi e senza denaro in tasca secondo quanto afferma arrestato in stato di accattonaggio e di vagabondaggio munito di documenti in regola fatemi vedere le carte disse il sindaco le prese le lesse le rilesse poi ordinò perquisitelo Randel fu perquisito non gli venne trovato nulla il sindaco sembrava perplesso chiese all'operaio che facevate stamattina sulla via tercavo lavoro tercavate lavoro sulla strada maestra come volete che ne trovi se mi nascondo nei boschi tutti e due si fissarono con un odio di bestie appartenenti a razze nemiche vi farò rimettere in libertà ma guai a voi se ci ricascate il carpentiere rispose preferisco che mi teniate con voi sono stanco di correre per le strade il sindaco assunse un'aria severa tacete poi ordinò ai gendarmi condurrete quest'uomo a duecento metri dal villaggio e lo lascerete continuare la sua strada datemi da mangiare almeno l'altro si indignò ci mancherebbe altro che dovessimo nutrirvi è carina assai questa marrantel rispose con decisione se mi lasciate ancora crepare di fame mi costringerete a fare di testa mia tanto peggio per voi altri pezzi grossi il sindaco si era alzato replicò portatelo via alla svelta finirai per arrabbiarmi i due gendarmi afferrarono il carpentiare per le braccia e lo trascinarono via lui lasciò fare attraversò di nuovo il villaggio e si ritrovò sulla strada dopo averlo condotto a duecento metri dal paese il brigadiere disse ecco andatevene alla svelta e che non vi riveda in paese altrimenti l'avrete a che fare con me Randel si mise in cammino senza rispondere nulla e senza sapere dove andava camminò per un quarto d'ora a venti minuti talmente intontito che non pensava più a niente ma d'improvviso passando davanti a una casetta la cui finestra era socchiusa un odore di carne lessa lo fece fermare di colpo e di colpo la fame una fame terribile divorante da fare impazzire lo sollevò facendolo quasi cozzare come una bestia contro i muri di quella casa con voce minacciosa urlò per dio bisogna che me ne diano stavolta e si mise a battere alla porta forti colpi di bastone nessuno rispose picchiò più forte gridando ehi ehi di casa ehi aprite non ci fu rumore allora avvicinandosi alla finestra la sospinse con la mano e l'aria rinchiusa della cucina l'aria tiepida e piena degli odori di lesso caldo di carne cotta e di cavoli sfuggì verso l'aria fredda di fuori con un salto il carpentiare fu nella stanza due coperti erano disposti sulla tavola i proprietari recatisi senza dubbio alla messa avevano messo sul fuoco il loro desinare il buon lesso della domenica con la minestra grassa di legumi un pane fresco attendeva sul cammino fra due bottiglie che apparivano piene l'andè si buttò prima sul pane e lo spezzò con tanta violenza come avesse strozzato un uomo poi si mise a mangiarlo voracemente a gran bocconi mandati giù in un momento ma l'odore della carne lo attirò quasi subito verso il camino e tolto il coperchio dalla pentola vi immerse una forchetta e ne trasse un grosso pezzo di manzo legato con uno spago poi prese anche del cavolo delle carote delle cipolle finché il suo piatto fu pieno e posatolo sulla tavola vi si sedette dinanzi tagliò il lesso in quattro parti e mangiò come fosse stato a casa sua quando ebbe divorato quasi tutto il pezzo di lesso più una quantità di legumi si accorse di aver sete e andò a prendere una delle bottiglie posate sul camino appena vide il liquido nel bicchiere lo riconobbe per acquavite meglio così il calore della bevanda gli avrebbe messo un po' di fuoco nelle vene sarebbe stata una delizia sarebbe stata una delizia dopo aver avuto freddo e beve trovò l'acquavite veramente buona perché aveva perduto da tempo l'abitudine di berne e se ne versò di nuovo un bicchiere colmo che trangugiò in due sorsate e quasi subito si sentì contento aglietato dall'alcol come se un grande benessere gli fosse corso nel corpo continuava a mangiare con menor fretta masticando lentamente e inzuppando il pane nel brodo tutta la pelle del corpo ora gli scottava specie la fronte dove il sangue pulsava ma d'improvviso una campana suonò lontano era la messa che finiva e l'istinto più che la paura l'istinto di prudenza che guida rende avveduti tutti gli esseri in pericolo fece alzare l'operaio il quale mise in una saccoccia il resto del pane nell'altra la bottiglia d'acquavite e a passi furtivi raggiunse la finestra e guardò fuori la strada la strada era ancora deserta salto fuori e si rimise in cammino ma invece di seguire la via maestra fuggì attraverso i campi verso un bosco che aveva scorto si sentiva in gambe forte contento contento di quel che aveva fatto e talmente agile che scavalcò i recinti dei campi a pie pari con un salto solo non appena fu sotto gli alberi trasse di nuovo la bottiglia dalla tasca e si rimise a bere a grandi sorsate sempre camminando allora le idee gli si aggrovigliarono gli occhi gli diventarono torbidi le gambe elastiche come molle cantava la vecchia canzone popolare ah che piacere che piacere cogliere fragole ora camminava su un'erba spessa umida e fresca e quel tappeto dolce sotto i piedi gli diede una voglia pazza di far capriole come un ragazzo prese lo slancio volteggiò si rialzò ricominciò e ad ogni pirouette si rimetteva a cantare ah che piacere che piacere cogliere fragole a un tratto si trovò sull'orlo di una strada incassata e scorse nel fondo un'altra ragazza una serva che tornava al villaggio e reggeva nelle mani due secchi di latte tenuti distanti da un cerchio di caratello lui sporgendosi la spiava gli occhi accesi come quelli di un cane che scorge una quaglia la ragazza lo vide alzò la testa si mise a ridere gridandogli eravate voi a cantare in quel modo non rispose salto giù per il borro benché fosse alto almeno sei piedi vedendolo ad un tratto davanti a sé lei disse accidenti ma avete fatto paura ma lui non l'udiva era ebro era pazzo sconvolto da un altro furore più divorante della fame preso dalla febbre dell'alcol pieno dell'irresistibile furia di un uomo pieno dell'irresistibile furia di un uomo che da due mesi manca di tutto che è ubriaco è giovane ardente acceso da tutti i desideri che la natura ha profuso nella carne vigorosa dei maschi la ragazza indietreggiava dinanzi a lui spaurita da quel viso da quella bocca semiaperta da quelle mani protese lui la ferrò per le spalle e senza aprir bocca la rovesciò sulla strada la ragazza lasciò cadere i secchi che rotolarono con gran rumore spandendo il latte poi gridò quindi comprendendo che a nulla serviva a chiamare in quel deserto e vedendo chiaramente che lui non voleva farle male cedette senza troppo resistere senza nemmeno troppo vergognarsi perché il giovanotto era forte e anche brutale quando si fu rialzata l'idea dei secchi vuoti la impì ad un tratto di furore e togliendosi lo zoccolo da un piede lo scagliò sull'uomo per fracassargli la testa se non le avesse pagato il latte ma lui impauritosi per quell'attacco violento riavutosi un poco dall'ebbrezza confuso spaventato di quello che aveva fatto fuggì con tutta la velocità dei suoi garretti mentre lei gli scagliava sassi qualcuno dai quali lo raggiunse sulla schiena corse a lungo assai a lungo poi si sentì stanco come non era mai stato le gambe erano diventate così molli da non poterlo più reggere tutte le idee gli si erano ingarbugliate non si rammentava più di nulla non poteva più pensare a nulla sedette ai piedi di un albero cinque minuti dopo dormiva fu svegliato da un gran colpo e aprendo gli occhi scorse due tricorni di cuoio lucido chini su di lui e i due gendarmi di quella stessa mattina che lo leggevano e gli legavano le braccia lo sapevo io che t'avrei ripescato disse il bersagliere con aria canzonatoria Randell si alzò senza rispondere una sola parola i uomini lo scuotevano pronti a maltrattarlo se avesse fatto un gesto perché era divenuto ora loro preda selvaggina da prigione catturato da quei cacciatori di delinquenti che non lo avrebbero lasciato andare mai più in cammino ordinò il gendarme si avviarono sopraggiungeva la sera si diffondeva sulla terra un crepuscolo d'autunno pesante e sinistro dopo una mezz'ora raggiunsero il villaggio tutte le porte erano aperte perché i fatti erano già noti a tutti contadini e contadine pieni di collera come se ognuno fosse stato derubato o violentato volevano vedere tornare il miserabile per lanciargli in giulie un coro di urla lo accompagnò dalla prima casa fino al municipio dove anche il sindaco attendeva pronto anche lui a vendicarsi di quel vagabondo non appena lo scorse gli gridò di lontano ah giovanotto ci siamo e si fregava le mani contento come lo era di rado riprese l'avevo detto l'avevo detto io solo vedendolo sulla strada poi con gioia raddoppiata ah ma scalzone ah su dice canaglia ti sei guadagnato i tuoi vent'anni di galera bello mio grazie 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 grazie